Buongiorno da Leandro Maggi, Roviglia in diretta. Ancora una volta Rosolina Mare per controllare i danni che ha fatto l'ennesima mareggiata e ancora una volta nella zona Campeggio Nord. Nel filmato di luglio 2022 abbiamo fatto vedere i lavori del genere civile di Rovigo che avevano portato la spiaggia a recuperare molte decine di metri ma purtroppo le ultime mareggiate di settembre hanno creato questa nuova situazione. Come può uno scoglio arginare il mare anche se... ... ... ... ...